Durante il gioco, quando c'è qualche momento critico, prima diventavo molto teso. Parlavamo di questa responsabilità illimitata. Se sono consapevole, forse posso evitarlo, ma se non lo sono, a volte va e viene. Se non sono consapevole, se divento teso, c'è un modo per uscirne immediatamente? Vedi, cos'è la tensione? Capiamo questo. Puoi chiamarla tensione, puoi chiamarlo stress, puoi chiamarla depressione, puoi chiamarlo disturbo bipolare, puoi chiamarla infelicità o puoi chiamarla follia. Tensione o stress significano una quantità limitata di follia in realtà. Una piccola variazione, voglio dire, hai un piccolo esempio di pazzia, non è così? Essenzialmente i tuoi pensieri ti bombardano a un ritmo che non puoi gestire. Supponi che pensi, rappresento l'India. Troppa tensione, le aspettative di 1,4 miliardi di persone sulla tua testa ti uccideranno, ok? Le aspettative dei tuoi genitori ti uccideranno. Non preoccuparti di tutte queste cose. Devi solo giocare bene quest'unica mossa. Non è così? La tensione arriva perché vinco, perdo, avrò il trofeo, non ce l'avrò, avrò questo. Cosa mi succederà quando torno indietro? Con tutto questo, sarai meno di te stesso. Questo è l'unico crimine che puoi commettere quando giochi una partita. Sei meno di te stesso. Se qualcuno è migliore di noi, vinceranno. Cosa fare? Ci siete? Va bene. Qualcuno è migliore di noi, vinceranno. Cosa ci possiamo fare? Ma se siamo meno di noi stessi, questo è un crimine. Quel crimine, se non lo commetti, il resto è ok. So che c'è tutto un allenamento nel mondo. Come questo, Pragna Nanda vuole vincere tutte le partite di scacchio del mondo. Non farlo. Non cercare di vincere tutte le partite del mondo. Quest'unica mossa devi fare bene. Questo è tutto. Ci siete? Come vinci tutte le partite del mondo? Solo nei tuoi sogni puoi farlo. Ci siete? Nella realtà puoi solo fare una mossa intelligente. Non è così? Non ti permettono nemmeno di farne due alla volta. Giusto? Solo una. Quindi, devi fare solo una mossa intelligente. Non devi fare la successiva e la successiva. Provi a prevedere dove, cosa farà lui. Giusto? Ciò che farà, lo puoi prevedere in una certa misura. Ma comunque non sai. Comunque non sai. Potresti aspettarti che faccia una mossa molto intelligente, potresti fare una mossa stupida. Ma se pensi che sia molto intelligente e devi essere più intelligente di lui, ti perderai la mossa stupida e sarà l'errore più grande. Non è così? Quindi, per questo, ciò di cui hai bisogno è di essere consapevole. Essere consapevole significa, più... Vedi, questa è la natura della mente. Le menti delle persone sfuggono oltre il loro controllo perché è come qualcuno corre in bagno ogni cinque minuti. Significa che hanno mangiato qualcosa di cattivo. Sì o no? Quindi, se hai mangiato qualcosa di cattivo, un modo di fermarlo è prendere una pastiglia, fare questo, quello... E si ferma. È un modo se è un'emergenza. Ma la cosa più importante da fare è smettere di mangiare quel cibo cattivo che ti disturba. Lo stesso vale per la tua mente. Il cibo cattivo che puoi mangiare è che ti identifichi con qualcosa che non sei. Quando dico questo, abbiamo fatto ingegneria interiore, il corpo, la mente, abbiamo accumulato ogni cosa. Non è così? Che tu sei un giocatore di scacchi, lo hai accumulato in un lasso di tempo, sei nato giocatore di scacchi. No. Quindi, semplicemente, siedi qui in quanto vita. E osserva ciò nel miglior modo possibile. Ciò che capiamo, capiamo. Ciò che non capiamo, non capiamo. Non è così? Ma la nostra capacità di capire qualcosa viene alquanto ridotta nel momento in cui abbiamo un livello di processo mentale non necessario. Quindi, gestisci solo una mossa alla volta. Quando ti alleni, ti alleni su tutte le mosse e quant'altro. Ma quando giochi, solo una mossa. Questa mossa, se la fai bene, e aspetti di vedere cosa fa l'altra persona, è tutto qui. Non è così. E quando l'altra persona ha fatto, non avere conclusioni su, è un grande giocatore. Non guardare nemmeno il loro viso. È un grande giocatore, un idiota, è questo, è quello. Non fare tutto questo. Guarda solo questo, dove lo mette. Questo è tutto ciò che conta. Non è così? Quindi sto dicendo, la tua presenza mentale per la partita è più importante di qualsiasi piano che hai elaborato. Tutti questi piani e cose del genere servono a flettere la tua mente, affinché tu conosca bene ogni cosa. Conosci bene tutte le cose che possono accadere sulla scacchiera prima di andarci. In quanti milioni di modi possono muoversi? Qualsiasi misura puoi, cerchi di capirlo prima della partita. Ma quando ti siedi per la partita è solo una mossa alla volta, non è così? Perché se non conosci il gioco e ti siedi lì, ovviamente è una partita diversa. Conosci il gioco. Ora tutto ciò che devi fare è stare attento a ciò che succede. Per questo non hai bisogno di nessun grande piano. Forse hai capito qual è la sua tendenza naturale, come gioca con l'altra persona, quindi cosa dovresti fare. Ma sii consapevole di questo, non darci troppa importanza, perché lui potrebbe sorprenderti. Potrebbe sorprenderti con una mossa brillante, o potrebbe sorprenderti con una mossa stupida. Entrambe le cose succedono, non è così? Se fa una mossa brillante, come replicare? Avremmo dovuto pensarci. Ma se fa una mossa stupida, se la manchi, significa che diventeremo idioti due volte, non è così? Ci siete? Perché aspetti sempre che quella mossa stupida arrivi. Quindi non pensare a tutte queste cose, fai solo attenzione. Tutto qui. L'attenzione umana è di fondamentale importanza. Non il pensiero umano. L'attenzione umana. Vuoi colpire una palla, vuoi muovere questo. La tua attenzione, quanto è intensa, è tutto ciò che conta, non è così? Che grandi pensieri e desideri hai, non avrà importanza. Quindi non cercare mai di essere un campione, sto dicendo. Sì, semplicemente un grande giocatore di scacchi, gli altri diranno che sei un campione, è fantastico. Se gli altri dicono che sei un campione, è una cosa fantastica, ci piacerebbe vederlo. Ma se pensi, sono un campione, un campione è una cosa stupida da fare. Non è così? Facciamolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.